Uno dei problemi evidenti risolti per il Molise è quello della viabilità con un dissesto idrogeologico che interessa tutta la regione, strade interne disastrate, in particolare mulattiere in molti casi. Il sindacato delle costruzioni, la filea CGL, è tornata sul tema lanciando di nuovo l'allarme dopo quello del 26 dicembre e associandosi ai sindaci di Acquaviva con le Croce, Castelmauro, Mafalda, Monte Falcone nel Sannio, Palata, San Felice del Molise e Tavenna. Raggiungere ad esempio Monte Falcone da Palata, ha evidenziato il segretario regionale della filea CGL Pasquale Esisto, passando per Acquaviva con le Croce diventa un percorso ostacoli a causa di frane, buche, voragini. Su qualche ponte chiuso si continua comunque a transitare in assenza di percorsi alternativi, altrimenti si rischia l'isolamento, una situazione che definire critica è poco. La CGL ribadisce l'urgenza di fare investimenti immediati per mettere in sicurezza territorio e strade, diventate insidia e pericolo per la pubblica incolumità. Investimenti, ha concluso Sisto, che oltre a far sentire sicuri e non abbandonati i cittadini, potrebbero portare lavoro immediato a un settore come l'edilizia e a tutto l'indotto che da circa otto anni soffre una crisi irreversibile con la perdita di oltre 50% degli addetti. Un appello forte e chiaro alla politica che è chiamata a dare risposte concrete adesso.